Continua la guerra dei cieli tra Rimini e Ancona, tra le rispettive società di gestione degli aeroporti Aeriminum e Aerdorica. A febbraio l'amministratore delegato del Fellini, Leonardo Corbucci, aveva parlato di concorrenza sleale da parte dei colleghi marchigiani per quei 20 milioni di euro che la regione Marche aveva destinato allo scalo di Ancona per la sua ricapitalizzazione. Una operazione della quale l'amministratrice delegata di Aerdorica, Federica Massey, aveva sempre vantato la legittimità. Dopo il ricorso riminese, suo Ancona grava l'attesa della risposta di Bruxelles che dovrà decidere se quei 20 milioni sono o meno un aiuto di Stato. La legislazione europea non consente infatti questo tipo di impiego. Da tempo Aerdorica avrebbe ottenuto un anticipo di 7 milioni di euro. Intanto i suoi dipendenti confermano uno sciopero e la società chiederà una proroga di un mese al giudice per la presentazione del piano concordatario. Ancona è furiosa con Rimini. Massey si domanda da dove provengono i finanziamenti per i nuovi voli Ryanair del Fellini. Se si tratta di soldi pubblici faremo anche noi denuncia per concorrenza sleale. L'area continua dunque ad essere estremamente tesa tra i due scali e i rispettivi amministratori.